Una storia come tante altre, purtroppo. Una storia che però non si è conclusa con un femminicidio, ma con la vittima che ha avuto il coraggio di chiamare i carabinieri, grazie anche all'aiuto della figlia e di denunciare il marito violento e geloso e la cognata che gli dava supporto. Tutto è successo a Fiumara, allorquando un uomo, un operatore socio-sanitario di 46 anni, con l'ausilio della sorella 43enne, bloccava per strada l'auto sulla quale viaggiava da sola la moglie, che era andata a trovare un'amica. Dopo averla fatta scendere, i due hanno cominciato a picchiarla con calci e pugni, tanto da rompergli un dente e provocandole lividi e chimosi su tutto il corpo. Poi, dopo averle sottratto il telefono cellulare, la fanno salire contro la sua volontà sul loro veicolo e la costringono a tornare presso la casa coniugale insieme a loro. Fortunatamente la donna è riuscita a liberarsi, soprattutto grazie all'intervento della figlia che era lì presente e che poi ha chiamato il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri di Villa San Giovanni. I due fratelli sono ora agli arresti domiciliari e dovranno rispondere a diverso titolo e con responsabilità differenziate dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.